allora raga sono tornato oggi a Firenze perché mi pigliò la gripola 80 ora io gli ho rimesso un 75 c'è già un motore con i carter preparati da me albero mazzucchelli questo c'è i 13 pari la solita mitica broma io ho ricambiato e io ho rimesso i rapporti allungati della malossi dentro il mozzo c40 eccetera eccetera girare ora sembra sembra girar bene vediamo un pochino che bel suono che bel suono vai saluti da Tegreat e Cristian in Meteoristian